Ciao a tutti quanti da Cristian TG, salutatore del blog, visto che adesso va di moda il Morso di Suarez, io vi faccio un saluto alla Morso di Suarez! Ciao a tutti! Salutiamo tutti i tifosi del mondo, dell'Italia, del Brasile, della Spagna, di tutti quanti, dal salutatore del blog col Morso di Suarez! Ciao! Ciao, grazie a tutti! Ciao!